Ehi, e là, ciao, non mi vedete? Scusate, qui da me è molto buio. Sono sottoterra. Aspettate un momentino che accendo la luce. Oh, adesso sicuramente mi vedete. Ciao, mi presento, sono Pino, una formica operaia. Mi occupo un po' di tutto. Prendo le provviste per l'inverno, scavo altre camere nel formicaio, proteggo una formica regina e cresco onestamente la mia prole. Amo i miei piccoli e anche loro da grandi diverranno come il loro papà grandi lavoratori. Sapete, noi formiche siamo molto, ma molto laboriose. Qualche tempo fa un grande scrittore pugliese, non so se lo conoscete, si chiama Tommaso Fiore, ha descritto il suo popolo laborioso quanto noi formiche. Mamma mia, quanto dovevano essere forti questi pugliesi. Certo però, anche noi formiche siamo molto, molto forti. Ora però, mi dispiace, vi devo salutare, devo andare a lavorare. Ma qui ci si diverte anche, eh? Noi formiche siamo insetti sociali e ogni tanto, con alcuni dei miei amici di lavoro, ci prendiamo una birra, usciamo insieme, siamo una bella compagnia, insomma. Anche perché, ragazzi, sono il veterano del gruppo. Ho quasi 14 mesi e sono anche non per vantarmi, eh? Quello più divertente, ma soprattutto il più forte del gruppo. Sapete, no? Le formiche sono in relazione alle dimensioni gli animali più forti in assoluto. Noi formiche siamo in grado di sollevare oggetti anche 100 volte superiori al nostro peso, ragazzi. Purtroppo però, c'è da dire che sul lavoro, anzi, su tutti i lavori, ci sono sempre pericoli in agguato. Ho visto molti compagni, all'alba del mattino, di giorni sempre uguali, sentirla sveglia suonare e a lavorare andare. Chi nei campi, chi nei cantieri, e faticare, faticare con sudore che fa rima con onore e ogni giorno li imbrunire con le membra stanche e la voglia di dormire? Passo dopo passo, il desiderato ritorno a casa dopo aver lavorato tutto il dì. Ma non per tutti, purtroppo è così. Sono migliaia le morti bianche ogni giorno per sfregio della legge e per inciviltà, e c'è qualcuno che ritorno a casa non farà. I più fortunati per invalidità, dove anziché la casa un ospedale li accoglierà. Altri, purtroppo, si saranno immolati con il loro sangue sull'altare del lavoro. Non più braccia per abbracciare, mani per accrezzare, labbra per baciare. Non avranno più la voce per dire i loro cari «vi ho amati» fino all'ultimo mio respiro. E così tante famiglie piangono i loro cari con il dolore più nero e più cupo che ci sia. Giustizia, sicurezza, ma soprattutto prevenzione è invocata. Che si scuoti la coscienza dei titolari per evitare questi destini fatali. Che le norme vengano tutte rispettate per un lavoro onesto, sicuro ed appagante. Cosicché ogni giorno chi lavora possa fare ritorno a casa. Sì, stanco, ma felice di aver contribuito al benessere della famiglia e del paese. Perché il lavoro, non dimentichiamolo, deve solo darci dignità e mai più mortalità. Ve lo chiede col cuore in mano una formichina. Voletevi bene, proteggetevi, osservando le norme di sicurezza. E, siccome qualcuno ha detto che noi poliesi siamo un popolo di formiche, io vi imploro. Prendetevi cura della formichina che è in voi.